Virginia Montemaggi e Ayo si sono lasciati Trovo che la sta dormendo in mezzo a due ragazzi Voi non potete neanche avere quanto mi sto divertendo Invita alle sue feste i suoi ex Mi sta arrivando di tutto, di tutto La mia sorella c'è andata la settimana scorsa Faccio queste due storie per poi non parlarne più Più Ciao scappati di casa Io sono Fabrizio e Valerio è il mio cognome Benvenuti in questo nuovo nuovissimo appuntamento di TG Talk Il telegiornale più shock del web Dedicato al fantastico magico mondo di TikTok Virginia Montemaggi e Ayo si sono lasciati Sarà vero? Sarà falso? O sarà che non ce ne frega un c***o? Prima di iniziare però come sempre Vi ricordo se ancora non l'avete fatto Di iscrivervi al mio canale Qui sotto trovate un tastino con scritto iscriviti E di fianco c'è anche una campanellina Cliccate anche quella per attivare tutte le notifiche Relative ai video che pubblico tutti i giorni o quasi qui Sul mio canale Così da rimanere sempre aggiornati Sul gossip, sul trash E anche sul fantastico magico mondo di TikTok Vi ricordo anche di seguirmi su Instagram Dove mi trovate come Fabrizio Valerio Ed ovviamente anche su TikTok Visto che è di questo che parliamo Dove sono sempre Fabrizio Valerio Ah e ricorda Sì proprio Tu che stai guardando questo video Cos'è che ti devi mettere se vuoi uscire di casa? Ti devi mettere la mascherina Punto! Ragazzi Primo video Dopo i nostri vlogmas Innanzitutto volevo ringraziarvi ancora una volta Per aver condiviso con me Questo calendario dell'avvento Lo vedete qua Alle mie spalle Insomma tutte le caselline Sono state rotte Abbiamo mangiato insieme tutti e 24 i cioccolatini Del calendario dell'avvento Ma C'è un ma Grande quanto una casa come sempre E perché dico così? Beh perché ragazzi A sto punto Ciao ciao Calendario dell'avvento è stato bello Averti E può arrivare il nostro alberello Che per chi non lo sapesse Fa un po' schifo ma dettagli Questo praticamente è il mio sfondo natalizio Vabbè sapete che ogni anno Cioè ogni anno Tutto l'anno Alle mie spalle ci sono queste bellissime lettere Che vabbè rimangono spente Perché una è gialla L'altra è bianca E qui abbiamo invece il mio alberello di Natale Che però non è che si veda più di tanto Vabbè ragazzi L'anno prossimo ne comprerò un altro Magari con qualche lucina sopra Detto questo Grazie per aver visto con me i Vlogmas Cambiamo lo sfondo E adesso veramente Bando alle ciance Parliamo finalmente di TG Talk Nuovo TG Talk Nuove cose super super shock Per voi che vi devo raccontare Oggi parliamo di una storia d'amore finita Perché sì Il loro amore è forse arrivato al capolinea Perché parliamo proprio Dei due TikToker Virginia Montemaggi E Ayo Che in questi ultimi giorni Diciamo che ci hanno regalato abbastanza Trash Abbastanza Non so come dire Teatro su Instagram Perché sono successe veramente tante cose Parleremo anche Delle nostre tanto amate Corna Eh? Cos'è? Cosa? E poi ragazzi Mi avete chiesto in tantissimi questo video Quindi Potevo non accontentarvi Ovviamente Cioè ragazzi Ovvio che io vi debba accontentare Quindi Beccate questi spicci Qualche mese fa Virginia Montemaggi Si è purtroppo lasciata Con Vincenzo Cairo Ne abbiamo parlato Erano una coppia bellissima Ma Veniamo a noi Perché che cosa succede? Virginia si lascia con Vincenzo Cairo I due prendono due strade separate E Virginia Qualche mese fa Si è avvicinata Sentimentalmente parlando Ovviamente A Ayo Che è un altro tiktoker Molto famoso I due sembravano essere molto felici L'uno con l'altra Ma C'è un ma Grande quanto una casa Come sempre E perché dico così? Beh perché in questi ultimi giorni Abbiamo scoperto delle Verità Mezze verità Non so ragazzi Abbiamo avuto delle Segnalazioni Shock Tutto parte infatti Da alcuni tiktok Pubblicati dalla nostra Virginia Montemaggi Che Proprio sul suo profilo Pubblica Insomma ragazzi Dei video Che ci lasciano Letteralmente basiti Il primo fra questi Parla proprio di Clown Di Pagliacci E infatti lei Mentre insomma Si mette a ballà Scrive Quando da piccola Avevi paura dei pagliacci E ora Ti ci frequenti E insomma Virginia Sei un po' tutti quanti noi Perché Ne sappiamo qualcosa Sia di casi umani Sia di pagliacci Sia di clown Sia di gente Che proprio si doveva Chiedere la residenza Al circo Perché ti capisco Benissimo Siamo con te Virginia Non preoccuparti Non sei la sola Credimi E qui ragazzi Già Sento nell'aria Proprio un odore Di asfalto Fresco Ma come sempre C'è un Ma grande Quanto una casa Perché a fare A fare ancora più discutere Soprattutto a fare Scalpore Sui social È stato un altro video Sempre pubblicato Da Virginia Nel quale Insomma Lei piange Si dispera E Capiamo che forse Qualcosa con Ayo Il suo Ormai possiamo dire Ex fidanzato Non sta andando bene E diciamo che la conferma definitiva Arriva con alcuni commenti Che Gossip TikTok Italia Ci ha mostrato In un post Che ha pubblicato Su Instagram Perché infatti Qualcuno ha scritto Non ho capito Che c'entra Il video con Ayo E qualcuno risponde Evidentemente Stavano insieme E Virginia Montemaggi Mette un like A questo commento Ma Non è tutto ragazzi Perché qualcun altro scrive Ma Secondo me Perché non si possono vedere Cioè giustamente C'è la quarantena C'è la zona rossa Non si riescono a vedere Insomma C'è un po' Di mancanza Di nostalgia Nell'aria E invece no Manco per il K Perché appunto Virginia Montemaggi Scrive Di suo pugno Un commento Che lascia Tutti senza parole Perché infatti Commenta con una bella emoji Che è una renna Le corna stanno bene su tutto Ma io Stavo meglio senza Cheat Di fronte a questa Bomba mediatica Che è scoppiata Letteralmente Sui social Ovviamente Ayo La controparte In tutta questa vicenda Decide di rompere Il suo silenzio E infatti Sui social Racconta Per filo e per segno Tutto quello che è successo Perché si stanno dicendo Tante cose Tante falsità A sua detta E infatti Lui è pronto a raccontare La sua Di verità Guardate Faccio queste due storie Per poi Non parlarne più Più Perché sarà L'ultima volta La prima e ultima volta In cui deciderò Di parlarne Allora Vado Trovo che la sta dormendo In mezzo a due ragazzi Ok Poi Invita alle sue feste I suoi ex Va alle feste Dei suoi ex Bello No Comunque Cioè Dovrei sentirmi Molto bene Io che arrivo E la vedo Che sta dormendo In mezzo Ragazzi Mentre io sono lì No ma Ci sta comunque Bello E poi ha il coraggio Di insultarmi Dire Ma Guarda Davvero Cioè io non volevo Neanche mettere Proprio non mi interessava Cioè ho detto Vabbè Basta me la dimentico Scialla Ha fatto quel che dovevo fare Però si mette Guardate Cioè Ma voi Mettetemi nei miei Di panni Cioè Andare E vedere La tua c***o di ragazza Che sta dormendo In mezzo Altri due ragazzi Cioè che c***o Scusate So che vi sto rompendo Il c***o Un'ultima cosa Poi la chiami al telefono La chiami al telefono E tu sai Che è lì Insieme a un altro ragazzo A casa sua E tu glielo chiedi Non una Non due Non tre Quattro volte E ha il coraggio Di c***o Che è a casa da sola Che è a casa da sola E lei invece è con lui Nella stessa c***o di casa Che c***o Devo pensare Non ho parole Non ho parole Ovviamente Grazie a Webo.it Per aver pubblicato Queste bellissime stories E per averci fatto capire Qualcosa in più Quindi Di fronte a queste stories Siamo Cioè Non si sta a capire più niente Cioè siamo appena all'inizio Ma già non stiamo capendo niente Perché Virginia Montemaggi Dice Insomma È una bella storia di corna Nei commenti di un tiktok Dall'altra parte Abbiamo invece Ayo Che ci parla Di una serata In cui Virginia dormiva Con dei suoi Amici O chi lo sa Non si capisce bene Insomma Quello che ha dato fastidio Forse ad Ayo È il fatto che Virginia Abbia dormito Con due altri ragazzi Che però erano sui amici A quanto pare E lo vedremo più avanti Quindi Mi lascia Un po' Allibito Tutto questo Perché poi Ne parleremo più avanti Ma insomma Ragazzi È il 2020 Gli amici maschi Le amiche femmine Se c'è L'amicizia Tra uomo e donna Cioè Tutto va bene È normalissimo Non capisco Tutto questo scalpore Per il fatto che Una ragazza Dorma con un amico maschio Allora perché Uno al pisello Uno alla patatina Allora no No Loro devono stare per forza insieme Non possono dormire Cioè Normalmente Ognuno si fa i fatti suoi Ma nello stesso letto No Non è possibile Cioè Agli occhi di tutti quanti Questo non è possibile Bah Vabbè Ma comunque Dopo la pubblicazione di queste stories Di Ayo Che poi sono state cancellate Ma fortunatamente Ve lo ripeto Web.it E a tantissime altre pagine di gossip Le hanno ricondivise Beh Ayo Decide anche di pubblicare Un'altra storia In cui scrive Siamo stati Sempre E solo Amici E qua Già Io non sto capendo niente Cioè Ma quindi si riferiva A Virginia Cioè Loro due Sono sempre stati amici Boh Vabbè Ragazzi A questo punto Veramente Io non so più Che pensare Perché non ci sto a capire più niente Neanche io Vabbè Comunque Le parole di Ayo Sono subito State commentate Ovviamente Dalla diretta interessata E cioè Virginia Montemaggi Che su TikTok Ha diciamo Lasciato dei commenti Che non lasciano Nessun dubbio Anzi Ha scritto Per filo e per segno I motivi E soprattutto Dei chiarimenti In riferimento In riferimento alle parole Di Ayo Perché infatti Come ha riportato Gossip TikTok Italia Virginia Montemaggi Ha scritto Due ragazzi Uguale I miei migliori amici Ex Uguale Uno con cui Sono uscita Tre mesi fa Due volte E poi continua Che poi La sera in cui Io Ho dormito Con i miei amici Lui si è fatta Una Nel mio bagno Ha 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 Ok Ragazzi Qua siamo di fronte Veramente A Beautiful Alla sopopera Di TikTok Italia Possiamo chiamarla Ormai Perché Virginia Montemaggi E Ayo Ci stanno Non so come dire Destabilizzando Con queste Dichiarazioni Super shock Che hanno pubblicato Su TikTok Su Instagram Ovunque Io veramente Rimango Sotto shock Un po' come voi Perché lo so Che anche voi Siete lì a dire Ma che sta succede Cioè come finirà Questo video Ragazzi Non lo so nemmeno io Detto questo però Il botta e risposta Tra Ayo E Virginia Montemaggi Sui social Non è assolutamente Finito qui Infatti Ayo Nelle sue stories Ha pubblicato Insomma Delle storie In cui forse aveva anche Gli occhi lucidi E ha scritto Sto leggendo un sacco di insulti Senza sapere niente Ringrazio i pochi Che mi stanno ascoltando E aiutando Vi adoro E poi Commentando Dei messaggi di sostegno Che ha ricevuto Ha anche scritto Da oggi in poi Non mi fido Più Di nessuno E Se da una parte Abbiamo Ayo Che non si fida Più di nessuno Tantomeno Dei suoi amici Di Virginia Di non so Di un Nessuno Che è generale Beh Dall'altra parte Dall'altra parte C'è chi Come Virginia Dice Ma che sta succede E parliamo di un altro Famosissimo TikToker Nonché anche amico Di Virginia Montemaggi E forse Se non mi sbaglio Anche di Ayo O forse Sono diventati amici Dopo Vabbè Insomma Parliamo proprio di lui Richard Castaldi Che nelle sue stories Ha pubblicato Come dire Delle frecciatine No beh Forse frecciatine È a dir poco Riduttivo Diciamo che ha lanciato Le frecciatine L'arco È tutta la faretra Proprio Richard infatti Di fronte Alle dichiarazioni Super shock Di Ayo Ha risposto Così Nelle sue stories Ma ce la fai? Qual è il problema Se io e una mia amica Siamo soli in casa? Ripeto Lei è una mia amica E nient'altro E praticamente Stiamo sempre In casa da soli Quindi Non la far passare Per una cosa che non è Per sembrare buono Ti ricordo che Quello che ha cornificato Sei tu Non ti arrampicare Sugli specchi Non ti arrampicare Sugli specchi Perché scivoli E basta E poi continua Proprio tu parli Di maturità Nelle tue storie Che se apro bocca E racconto Quello che hai fatto a me Fai solo che La figura del bambino Dai su Lascia stare Che è meglio E poi Richard Inarrestabile Pubblica altre stories In una infatti ha scritto Comunque il teatrino Che state mettendo su È a dir poco Imbarazzante E poi secondo me Fa anche una giusta osservazione Sull'amicizia Uomo-donna Maschio-femmina Perché ha scritto Vi prego Aprite il cervello Rega Non vi mettete a scrivere Eh però Lei ha dormito con altri Eh però Lei stava a casa con un tipo Virginia era a casa con me Siamo migliori amici Non c'è nulla di più E se secondo voi Non può stare a casa Con degli amici maschi Mi dispiace dirvelo Ma siete rimasti Nel 1700 Ed io mi trovo Assolutamente d'accordo Anzi Cioè Se qualcuno Pensa che sia assurdo Che un uomo e una donna Un maschio e una femmina Siano amici Beh ragazzi Non sento odore di asfalto fresco Ma di rivoluzione industriale Come sempre Perché siete rimasti Un pochino indietro Cioè pensare che Una ragazza e un ragazzo Non possono dormire insieme Perché se no succede qualcosa Sennò lei Manca di rispetto al suo fidanzato Quando sono soltanto amici E anzi Migliori amici Beh ragazzi Ridimensionatevi un attimo Perché è tutto assurdo Cioè Un migliore amico E una migliore amica Possono dormire Benissimo insieme Ma anche due amici Che non sono migliori amici Cioè Non è che perché Uno è donna E l'altro è uomo Allora aiuto Che sta succede Non possono dormire insieme Dai su Bado Cioè io Mi rifiuto anche di andare avanti In questo discorso Perché per me È assurdo Cioè boh In tutta questa vicenda Ovviamente Il botta e risposta Tra Ayo e Richard È continuato Infatti Di fronte a queste parole Di Richard Ayo ha scritto Mi fate ridere Pagliacci È incredibile Cosa fa la gente Per due follower in più Beh Diciamo che Richard Ayo e Virginia Di certo Non se le mandano a dire Anzi Quando hanno qualcosa da dirsi L'un l'altro Beh Lo fanno ben volentieri Sui social E Ci rendono partecipi Di tutto questo Bellissimo Trash Che però insomma A volte parla di amori finiti E non è semplice Sicuramente Fatto sta comunque Che Per concludere Da parte sua Tutta questa Boh Pantomima Che è successa Sui social Ayo Ha deciso di pubblicare Queste stories Guardate Raga Faccio queste due storie Al fly Perché sta succedendo Troppo casino Per niente Allora Vi spiego un attimo Com'è la situazione Io mi chiamo Ayo 19 anni Vivo a Bergamo E mio padre Lavora in fabbrica Ok Io vorrei raccontarvi Vorrei spiegarvi Un sacco di cose Che voi non sapete Ma un sacco Cioè vorrei raccontarle Anche Oh Non posso Non posso parlare Non posso parlare Perché non posso parlare Perché io non ho Un padre avvocato E Essendo che Mi ha minacciato Di Che se dico Determinate cose Racconta su padre Che mi denuncia Io non posso Prendermi un'altra denuncia Capito E Quindi Davvero vorrei raccontarvi Tutto Ma non posso Perché non sono così Boh ragazzi Io sinceramente Non ce sto a capì Più niente Anche perché Allora O si parla chiaro O non si parla chiaro Io Onestamente Da queste ultime stories Che abbiamo visto Non ho capito Cose in più Diciamo No Ho capito soltanto Che forse Ayo Non vuole Ulteriormente Parlare di questa vicenda Ma C'è un ma Grande quanto Una casa E perché dico così Beh perché Finalmente Ci godiamo Quelle che sono state Le risposte Le reazioni Che ha avuto Virginia Montemaggi Che Devo ammettere Non so È la mia preferita In tutta questa Vicenda Perché È stata molto Autoironica Nel senso che Ha parlato Con il sorriso Sulle labbra Del fatto di avere Le corna Ragazzi Faccio così come se Ce le avessi qua Però insomma Ognuno ce le ha nel cuore Quando gliele fanno Ma dettagli E io la stimo Perché le persone Che riescono a ridere Sorridere Delle cose Che ricevono Cioè delle corna Visto che appunto Si parla di questo Meritano un po' Il nostro sostegno Perché Non è semplice Affrontare Queste mancanze Di rispetto Che a volte ci sono Nelle relazioni Quindi Virginia sappi Che tu sei nei cuori Di tutti noi Perché insomma Le corna Stanno bene Su tutto Pure su di me Pure su di te Pure su tutti quelli Che insomma Come noi Ok ci siamo capiti Fatto sta comunque Che nelle sue stories Virginia ha commentato Tutta questa vicenda Perché infatti Ha scritto Raga Mi sto onestamente Pisciando addosso Dalle risate Forse il problema Sono io Che mi confondo Con le persone Sbagliate E vi dicevo appunto Che lei Ha ironizzato Su questa storia Di avere le corna Pubblicando selfie Con le corna Che anche io uso A volte per fare le foto Ha pubblicato Anche una bellissima Foto natalizia Credo Forse con il suo Cane se non mi sbaglio Sempre con le corna In testa Quindi insomma Ci sta anche Ironizzare Su tutto questo Dopo essersi anche Un po' Giustamente Arrabbiati Se ci sono queste corna Ma insomma Non penso che qualcuno Se le inventi No Fatto sta comunque Che in tutta questa situazione Virginia poi Ha anche deciso Di replicare Forse anche Di commentare Quello che è stato detto In questi giorni Sui social Guardate Voi non potete neanche Avere quanto Mi sto divertendo E Quanto questa cosa In realtà Mi sta Non so perché Tirando su di morale Perché Adesso Questa cosa è pubblica Mi sta arrivando Di tutto Di tutto La mia sorella Ci è andata La settimana scorsa L'amizia Due settimane fa Il mio nonno Anche lui C'è andato Di tutto Quindi Cioè Il tradimento Non sarebbe solo uno Ma più di uno Cioè addirittura Virginia sta ricevendo Delle segnalazioni Super shock Di persone Che dicono Che lui ha fatto Lui ha detto Insomma Non sappiamo ovviamente Quello che Le è stato Comunicato Da altre persone Però Lei ci dice Che insomma A quanto pare Sta scoprendo Altre cose E insomma Aiuto In tutto ciò Comunque In questi giorni Ayo è letteralmente Sparito dai social Dopo infatti Aver pubblicato Quelle famose storie In cui non si è capito bene Quello che voleva dire Se non Basta Non voglio più Parlarne Ayo Ha deciso Di sparire dai social Ha Credo che abbia Reso privato Il suo profilo E poi non abbia Più pubblicato Nulla E questa cosa La veniamo a scoprire Ovviamente Da web.it Che in questi giorni È stato in contatto Anche Con una persona Molto vicina Ad Ayo E infatti Su web.it Magari vi lascio Anche il link Dell'articolo Qui sotto Nell'info box Se volete leggere Tutto quanto Tutto quello Che è successo Quello che leggiamo Su web.it Infatti è questo Ayo ha lasciato Ai follower La password Di sblocco Del proprio telefono Il suo amico Domenico Ci ha contattato Per dirci Che attualmente Ayo è scomparso Non risponde al telefono E non si sta facendo vivo Nemmeno con la mamma E se questo fosse vero Mi dispiace veramente tanto Perché a prescindere Da quello che succede Sui social Con le relazioni Interpersonali Mi auguro veramente Che non si sfoci in questo Cioè nella scomparsa Di una persona Che non risponde al telefono Che veramente Non si fa più Viva Neanche con i propri familiari Tutta questa situazione Del fatto che Ayo è scomparso Dai social È stata commentata Anche dalla sua ex Fidanzata Virginia Montemaggi Che Nelle sue stories Ha scritto Questo Un messaggio Abbastanza Come dire Una bella frecciatina Perché ha scritto Non si scherza Su cose così serie Dai Codice del telefono Nelle stories E intanto però La testa per mettere Il profilo privato E togliere tre post La Quindi insomma Ma forse quello che dice Virginia Montemaggi È che tutta questa situazione Della scomparsa Che è Non sarebbe vera Cioè sarebbe stato fatto Tutto soltanto Per attirare L'attenzione Per hype Beh forse È lecito pensarlo Da una parte Io dall'altra Penso sempre E mi auguro Che le persone Non strumentalizzino Questi temi Come la scomparsa Di una persona Come sparire dai social Come tante altre cose Che tanti altri invece Hanno strumentalizzato Io parto sempre Dal presupposto Che credo Che i ragazzi Di cui parliamo Siano comunque Sempre intelligenti E non Non strumentalizzino Queste cose Dall'altra parte Posso anche Prendere in considerazione Alcuni dubbi Che delle persone hanno Come ad esempio Virginia Montemaggi Che ovviamente Di fronte già A mancanze di rispetto A tradimenti Che ha scoperto Non si fida Di tutto quello Che è successo Poi Nelle storie di Instagram Su Instagram Eccetera eccetera E quindi dice Forse tutto questo È finto Anche perché Se poi metti il profilo Cioè perché Metti il profilo privato Forse io Sinceramente Se voglio sparire Non voglio più far sapere nulla Non uso Instagram Punto Potrebbe starci Potrebbe starci Anche come Come Diciamo Idea Su questa vicenda Fatto sta Comunque Che questo È tutto quello Che sapevamo Di Virginia Montemaggi Di Aio Si sono lasciati Non si sono lasciati Sì Si sono lasciati Ovviamente C'è stato un tradimento Ci sono stati Più tradimenti Ragazzi Tirate voi le somme Perché Io vi ho raccontato Tutto quello Che è successo Quello che hanno detto I diretti interessati E staremo a vedere Se più avanti Ci saranno Ulteriori aggiornamenti Su tutta questa vicenda Nel frattempo Vi chiedo come sempre Di farmi sapere Voi Quello che pensate Qui sotto Nei commenti Detto questo Il video Può finire qui Spero tanto Che vi sia piaciuto Se è così Lasciate un bel Pollice in su Iscrivetevi al canale Se ancora Non l'avete fatto E qui sotto Trovate tutti i miei social Dove potete seguirmi Io e Mark Vi salutiamo E noi ci vediamo In un prossimo video Vero Mark Vai Saluta Mark Vabbè ragazzi Anche oggi noi Ci abbiamo provato Ciao